Credo che Guerrina sia ancora viva, ho sempre cercato di chiederle di farsi vedere perché io soffro fisicamente e moralmente per questa situazione. Il giallo di Guerrina Piscaglia torna nuovamente sugli schermi tv a parlare il frate più sospettato d'Italia, padre Graziano, e lo fa ai microfoni della trasmissione quarto grado incalzato dal giornalista Remo Croci. Il frate congolese torna sulla vicenda che gli ha cambiato la vita, la scomparsa della casalinga di Caraffello. Il religioso ricorda quel primo maggio, ero con Mirko racconta siamo tornati insieme alla canonica, il coniglio, riferendosi a quei messaggi dai contorni osè, ti cucino il coniglio poi facciamo l'amore, l'ho cucinato io. Ha poi aggiunto non ho mai avuto rapporti sessuali con Guerrina, con lei avevo un rapporto spirituale ed umano. Non l'ho mai incontrata da sola, in canonica veniva sempre con il marito con il figlio. E poi a proposito di Mirko torna a puntare il dito contro di lui. Lui mi chiede verità sulla fine della moglie, ma se non la conosce lui che è il marito, come posso conoscerla io? Io forse soffro più di lui. Padre Graziano poi parla della vicenda giudiziaria che lo ha travolto. Sono vittima delle ingiustizie e del razzismo, dice. Alcuni vogliono far carriera su di me. Non ho timore, ma non è giusto che io torni in carcere. Nel pensiero sono più libero del cielo. E poi io ho già perdonato tutti, anche coloro che testimoniano contro di me. Per donna anche Cristina, riferendosi alla prostituta romena che sostiene di aver avuto rapporti sessuali con lui. Nel corso della trasmissione quarto grado è poi intervenuto anche il marito di Guerrina Piscaglia, Mirko Alessandrini, che ancora una volta ha chiesto verità sul destino della moglie. Mi manca, confessato, in casa sento i suoi passi. Nel mio cuore sento che è viva. Verità è anche quello che chiedono le sorelle della casalinga di Caraffello, intervenute nella trasmissione pomeriggio 5. È ora che padre Graziano dica la verità su quello che sa e su quello che ha fatto. Lorenzo lo deve lasciare stare, ci fa male a noi e a lui. Tuonano dagli studi Mediaset le sorelle della donna scomparsa, che poi aggiungono deve smettere di gettare fango su una donna che non può difendersi, riferendosi alle ultime esternazioni del frate congolese sul fatto che la donna volesse a tutti i costi un figlio di colore. C'è tanta omertà, aggiungono infine. In un paese piccolo come Caraffello è impossibile che nessuno sappia niente.